Siamo con Federico Loschi, quali sono le tue impressioni su questa strepitosa vittoria? Era una partita che poteva andare bene o male, dovevamo stare concentrati, loro sono venuti in classifica però sicuramente non hanno molato niente, sono venuti su in giornata quindi sono solo che da apprezzare noi oggi pensavamo non ci fosse tanta gente, è sempre più pieno, è qua veramente un'atmosfera bellissima tutti concentrati, il puntetto anche quindi è veramente una bella partita, sono stati bravissimi noi è stare concentrati per 40 minuti per tornare a casa, penso che più 15 con Nimola adesso pensiamo matematici playoff sia una soddisfazione sia per la città che per noi